8 febbraio, amichevole di lusso tra Waves Bordighera, Sanremo e Masnada Helekin Savona. Un amichevole che serve di preparazione al campionato master che inizierà nel mese di marzo. Buona visione a tutti, grazie. Mi raccomando, cameraman, punta sempre sul 38. Assolutamente, giù di giù. Peres! Dai, ragazzi! Anche a un terzo, ragazzi, prepariamoci, concentrati, raga. Dai, 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 dai! Mention! In the round. Corre, corre! Bene, bene, bene. Giorgio, indietro! Giorgio, indietro! Giorgio! Giorgio! Giorgio, indietro, indietro! Di撃! Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, 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 Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! 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 Sì, Sì! 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 Sì, Sì! 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 Sì!